buongiorno questo è l'inizio della mattina stanotte hanno pulito tutto un idraulico è una bella sensazione è sabato mattina lunedì mattina lunedì sera era vuoto andiamo a vedere la farmacia siamo dentro la farmacia tutto pulito idraulici stanotte bene pronti mentre l'Italia dormiva qui si lavorava questa è la radiologia Ezio già qua che lavora oggi arriva un altro container lo dobbiamo collegare si sta preparando ti servo Ezio? ok vengo dopo dammi due minuti troppo bisogna dare le direttive in chiare così non perdiamo tempo ciao il ragazzo del gas saluta abbiamo iniziato a fare le calate il testo è letto come dicevo gas pronto gas pronto ieri sera era tutto sporco i tubi non c'erano a stasera grazie paè Grazie.